Il video di oggi su, Cesara Buonamici e la morte del papà, avevo 20 anni, penso alle volte che non ho detto, ti voglio bene. Cesara Buonamici ricorda l'adorato papà al Grande Fratello 2024, confidandosi con Alfonso Signorini in studio, ancora oggi penso a tutte le volte che non gli ho detto, ti voglio bene. Grande Fratello 2024, Simona Tagli e la sorpresa della mamma Luisa. La finale del Grande Fratello 2024 sta regalando importanti emozioni ai concorrenti ancora in gioco per la vittoria, ma anche al pubblico a casa. Ogni finalista ha goduto di una sorpresa speciale da parte dei propri affetti e, per Simona Tagli, è arrivato un bellissimo incontro con l'adorata mamma Luisa. La concorrente ha inizialmente ricordato la scomparsa del padre, sottolineando come non sia mai riuscita a dirgli, ti voglio bene. A seguire, è arrivato per lei l'incontro con la mamma, che ha abbracciato e alla quale ha rinnovato il suo amore.